Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Hanno conto già numerose sentenze di tribunali amministrativi e consiglio di Stato, eppure non pochi prefetti in Francia continuano a dimostrarsi particolarmente zelanti nel proibire, guarda caso, solo ed esclusivamente processioni e manifestazioni a carattere religioso. Accomodanti e ben disposti verso le iniziative di natura civile, questi rappresentanti territoriali del governo si rivelano improvvisamente rigidi e intolleranti verso quelle di matrice confessionale. Come ha fatto il prefetto Divlen, cancellando di imperio un evento religioso in agenda per lo scorso 13 giugno. Un veto costato caro, però. Il Consiglio di Stato ha dato ragione agli organizzatori, che hanno subito presentato ricorso. Quell'appuntamento non si sarebbe dovuto ostacolare, per cui è stato loro riconosciuto un risarcimento di ben 3.000 euro. Un criterio che dovrebbe servire da esempio ovunque questo, anche in Argentina, per evitare che si ripeta quanto accaduto nel corso di una recente marcia indetta a San Luis la sigla femministe. Ufficialmente contro i cosiddetti femminicidi, la manifestazione si è trasformata ben presto in un attacco d'odio contro la fede cattolica e contro la Chiesa, con scritte lo spray verde anticlericali e filoabortiste sulle mura della cappella del Collegio Don Bosco a Felucio e su quelli dell'ospedale Riva Davia, che nel febbraio scorso si è dichiarato obiettore di coscienza contro l'aborto. Un episodio purtroppo tutt'altro che isolato, questo, in un crescendo di tensione urbana fomentata da gruppi espressioni del femminismo più aggressivo e più violento. Se anche nei loro confronti si cominciasse ad assumere, con carattere d'urgenza, legittime danze auspicabili provvedimenti sanzionatori come avviene in Francia, forse ciò potrebbe costituire un freno, quantomeno, a dilagare di atti criminali che con l'apparvenza dei migliori pretesti commettono le peggiori colpe. Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Grazie a tutti.